ciao a tutti ragazzi allora andiamo aprire un paio di pacchetti ancora insieme e vediamo un po se vi portate fortuna vediamo se già uscito si c'è vediamo con zero monete cosa cosa viene fuori qualsiasi cosa va bene tante gratis quindi abbiamo un 5 quintana poi pacchetti vinti con la partita con il torneo della della all of fame sono due 6 7 era di un precedente evento mi aveva lasciato da parte per aprirlo insieme vediamo vediamo dai 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 speriamo sia giovane 21 anni socrates difensore centrale niente di che e ora il sette stelle il la carta la carta pitonata che bene che bene che bene fortissimo gonzalo igua in 23 anni 87 veramente forte valore generale già 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 altissimo e adesso il pacchetto delle leggende partiamo da dove partiamo dal primo da 200 vediamo se ci riesce qualcosa di buono di caso qui comunque ci sono dei premi diamo 5 a pioggia come se non ci fosse un domani un 7 un 6 e un altro 6 quindi con 200 26 stelle e un 7 stelle ma nessuna leggenda quindi parella top rack a bifuego nessun buon 5 stelle paolino paolino va bene poi andiamo e andiamo la pulce la pulce messi era tantissimo l'avevo chiamata ed è arrivata 91 22 anni lionel messi saluto il manager ciao il manager ciao brics a force italy bella raga che botta di culo finalmente finalmente un po di fortuna l'altro è 6 stelle la port questo centrale un altro centrale poi pisarro e poi l'altro è 6 stelle si tratta di welbeck pacchetto buonissimo con 200 ci siamo portati a casa a maradona invece nel pack precedente avevo portato a casa non maradona ma pardon messi nel pack precedente invece avevo preso aghero quindi direi che per 200 monete è andato anche bene apriamo questo da 20 adesso proviamo ancora vedere se gira la fortuna con 20 prendiamo un 5 stelle che è george del monaco regalino anche poi facciamo un altro colpo sempre a 30 e poi proviamo quello da da 100 che ci dà 5 giocatori un altro 5 stelle quindi nessuna leggenda niente di niente ma va bene così è arrivato messi quindi direi che direi che è andata fin troppo bene ora con 100 una sola volta ci portiamo a casa 5 giocatori di cui nessun 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 6 e nessun 7 dell'anni sa 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 correa jaja de che nomi impronunciabile e poi cdb tutti i giocatori che non mi servono a niente l'unico che sono curioso di provare correa e l'altro 5 stelle poi abbiamo 553 monete buttiamoci ancora su questo da 200 che possiamo aprire solo una volta e poi mi fermerò qui 6 5 555 come se non ci fossero domani e si chiude con un altro 6 quindi leggende nessuna il primo è João Moutinho il 6 stelle poi si fa 5 con Begovic portiere del Chelsea secondo terzo William un altro William l'ennesimo Areola sceso da 6 stelle a 5 Cono Bianca questo è un giocatore che merita le 6 stelle Alvarez ora dell'Anus Martinez del Napoli abbiamo Chiriches uno dei pochi 5 Zonzi e il 6 stelle è Goulam Goulam che sta praticamente girando continuamente cioè Goulam ce ne sono veramente 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 tanti ora siccome credo di avere la lista dei giocatori al completo direi che va bene così ci siamo presi non ci siamo presi nessuna leggenda ma sono riuscito a portare a casa Messi che 99 su 100 verrà portato in Hall of Fame quindi in ordine degli ultimi sei che che sono riuscito a prendere sono questi qua allora ordine firmato poi dei video magari domani o dopo non so nei prossimi giorni nel prossimo video farò vedere la squadra per 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 l'evento per la prossima coppa premetto non vado a puntare a vincere la coppa perché ho bisogno un attimino di di pausa di calma perché veramente sto giocando tantissimo quindi bisogna darsi una tranquillizzata perché Konami non da non da un attimo di di pausa eventi su eventi ogni 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 mese su coppe e quindi questi sono i giocatori andiamo a aprire invece il più forte il più forte che c'è non Sörna che Sörna mi è arrivato con l'evento che c'è adesso delle delle partite amichevoli apriamo la scheda di Messi eccolo Iguain Griezmann gli ultimi giocatori sono tutti fortissimi eh per Griezmann Iguain eccola qua la scheda parte già di velocità 99 insieme al la tecnica trequartiste seconda punta esterno destro è praticamente la stesso i stessi valori e poi abbiamo nelle abilità abilità che sono tantissime dribbling girata dribbling lungolinea cross anticipati veronica sombrero taglia spalle gira tiro da lontano finalizzazione acrobatica tiro di prima passaggio di prima e cross calibrato fortissima ragazzi quindi è andata bene anche questa volta dai non mi posso lamentare l'obiettivo rimane sempre Maradona ma la seconda volta che Conami meno male mi accontenta con due ottimi giocatori che entrambi tutti e due argentini da una parte aghero da questa parte messi quindi con oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao